Musica Benvenuti a informazioni sui prodotti, sono Jackie Carter, formatrice mondiale per i prodotti di nutrizione esterna Herbalife. Voglio presentarvi una linea veramente eccezionale di prodotti per la nutrizione esterna chiamati New Refusion. È una linea multivitaminica che contiene vitamina A, C e E, antiossidanti e questo porta una grande nutrizione alla vostra pelle. Proprio come prendete i multivitaminici ogni giorno, adesso potete applicare i multivitaminici alla vostra pelle per aiutarvi a proteggere la salute esterna. Gli ingredienti principali sono antiossidanti, vitamina A, C e E, cioè ACE per face. Contiene protezione, raggi uva, UVB, SPF e 15 anni. Il prodotto ha veramente un look e una sensazione, è una struttura eccezionale. Vediamo come le vitamine ci aiutano a mantenere la pelle nelle condizioni migliori. La vitamina A idrata, la vitamina C produce collagene e anche aumenta il sistema immunitario della pelle. La vitamina E aiuta a proteggere la pelle e a renderla più liscia. E come si usano i prodotti Neuroinfusion? È un regime flessibile in base alle vostre esigenze di pelle. Ci sono due sistemi, una per la pelle secca e una per la pelle da normale a grassa. Scegliete i prodotti che sono più indicati per la vostra pelle. Neuroinfusion è stata concepita per l'uso la mattina e la sera. Ci sono sei prodotti per tutti i tipi di pelle. Beh, innanzitutto ogni mattina potete pulire, tonificare e applicare l'idratante con SPF 15. Poi applicate il gel per il contorno occhi. Ogni sera pulite, tonificate, idratate la pelle con la crema per la notte. Finite con l'applicazione per il gel per il contorno occhi. Ogni settimana avete la scelta tra due masche. Una ricca, molto idratante, dermopurificante quando la pelle è abbastanza secca. E invece, poi, una volta o tre volte alla settimana potete usare la crema detergente. E se prendete già delle volte vitamine, pensate al detergenti multivitaminici per fornire nutrizione esterna eccellente alla pelle, che è l'organo più in vista. La pelle è essenziale e Neuroinfusion fornisce una nutrizione incredibile per mantenere la pelle liscia e sana. Potete provare tutti questi prodotti per nutrizione esterna. Potete ordinarli oggi da un distributore Herbalife indipendente. Piacerà moltissimo alla vostra pelle. Grazie della vostra attenzione.